Ma io trovo gravissima l'affermazione del Ministro dell'Interno per un semplice motivo che lui fa il Ministro dell'Interno e fa quella dichiarazione dopo le critiche di Saviano. Quindi cerco di fare una valutazione veramente oggettiva perché ho avuto modo di anche avere un contraddittorio vivace con Roberto Saviano, così come di avere posizioni politiche distanti da Salvini. Ma questo signore si deve un giorno rendere conto che fa il Ministro dell'Interno e quindi ha il ruolo di responsabile delle forze di sicurezza e della sicurezza del nostro Paese. E queste parole lanciate in un territorio così minato che è quello del rischio dell'incolumità di chi in questo caso scrive contro le mafie è molto molto pericoloso, non sai l'effetto che può avere. Mi auguro che quanto prima ci sia qualcuno che glielo dica, magari il Presidente del Consiglio perché a furia di queste uscite si rischia veramente di mettere in pericolo singole persone e lo stesso Paese.